Locali inadeguati, farmaci scaduti, assenza totale di misure anti-Covid, criticità per la sicurezza degli stessi operatori sanitari. Al termine di un'ispezione in 390 sedi di guardie mediche in tutta Italia, i NAS hanno riscontrato criticità strutturali e organizzative in più di una su quattro. I problemi sono immersi in 99 sedi ispezionate e hanno portato la denuncia di 19 persone all'autorità giudiziaria e alla segnalazione di altre 85 alle autorità amministrative e sanitarie regionali. Destinatari dei provvedimenti, sia i responsabili dei presidi sanitari, sia dirigenti delle ASL locali e personale medico-infermieristico. In Toscana, le irregolarità sono state riscontrate a Firenze e Massacarrara. Nel capoluogo toscano, due medici di guardia sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili di aver omesso di verificare la data di scadenza di confezioni di medicinali scaduti nel 2020, custoditi all'interno della struttura e destinati ai pazienti della guardia medica. A Massacarrara riscontrate carenze igienico-strutturali e gestionali, come umidità sulle pareti e distacco dell'intonaco, cavi della corrente elettrica esposti, servizi igienici non funzionanti e soprattutto l'adrenalina custodita all'interno di una confezione che indicava un medicinale differente.